dagli schermi della televisione. Vi parlo in un momento che so essere sempre più difficile, un momento di sconvolgimento per la vita del nostro Paese. Uno sconvolgimento che ha portato dolore ad alcuni, difficoltà economiche a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti. Voglio ringraziare tutti quelli che lavorano nel sistema sanitario nazionale, quelli che si prendono cura dei pazienti, dal momento che stanno giocando un ruolo fondamentale e continuano a svolgere il loro lavoro tutti i giorni fuori dalle loro case. Questo per sostenere noi. Sono sicura che la nazione si unirà a me nel garantire loro che quello che fanno è altamente apprezzato e il loro duro lavoro ci riporterà il più presto possibile alla normalità. Voglio ringraziare anche quelli tra voi che continuano a rimanere a casa. In questo modo ci aiutate a proteggere le persone più vulnerabili e risparmiate a molte famiglie il dolore di coloro che hanno già perso i loro cari. Insieme vogliamo attaccare questa malattia e voglio rassicurarvi sul fatto che se rimaniamo determinati e uniti, allora vinceremo noi. Spero che nei prossimi anni tutti possano sentirsi orgogliosi di come hanno reagito a questa sfida e quelli che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati i più forti. Diranno anche che qualità come l'autodisciplina, la garbata determinazione e la mutua comprensione ancora caratterizzano questo paese. L'orgoglio che prendiamo nell'essere chi siamo non fa parte del nostro passato ma definisce il nostro presente e il nostro futuro. I momenti in cui il Regno Unito si è unito per applaudire il personale sanitario verrà ricordato come un'espressione dello spirito nazionale e il simbolo di questa unità saranno gli arcobaleni disegnati dai bambini. In tutto il Commonwealth e nel resto del mondo abbiamo sentito storie che scaldano il cuore di persone che si aiutano vicendevolmente, che si tratti di consegnare la spesa, di consegnare i farmaci, di aiutare i vicini o mettere in piedi delle imprese per portare sollievo a quelli che soffrono. Molte persone di diverse fede religiose che non hanno alcuna fede religiosa stanno scoprendo l'opportunità per rallentare, per riflettere, per pregare o per meditare. E questo mi ricorda quello che ho fatto nel 1940 insieme a mia sorella. Noi eravamo bambini, abbiamo parlato ad altri bambini che venivano evacuati nel corso della guerra dalle loro case per portare loro una parola di conforto. Oggi, ancora una volta, sentiranno questa dolorosa sensazione di separazione dai propri cari. Ma ora, come allora, sappiamo nel profondo del nostro cuore che è la cosa giusta da fare, quella di rimanere isolati. Abbiamo affrontato altre sfide in passato, ma questa che ci si presenta oggi è diversa. Questa volta ci uniamo a tutti i paesi del resto del mondo in uno sforzo comune, utilizzando le grandi scoperte tecnologiche, ma anche il nostro sentimento, l'empatia per guarire. Vinceremo e supereremo tutto questo. Il nostro successo sarà merito di tutti noi. Dovremo trovare consolazione nel fatto che, anche se abbiamo ancora molto da fare, ritorneranno giorni migliori. Saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie e ci incontreremo di nuovo. Ma per il momento voglio inviare la mia gratitudine a tutti voi.